la stanza le annoia e così loro si muovono il batter è finito sul tetto una volta sì, è stato buffo ma ora come faccio a scendere in cucina? devi dire alle scale che vuoi andare giù scale, voglio andare giù deve anche pronunciare le parole magiche quali parole magiche? abracadabra? no, per favore oh, per favore, voglio andare giù grazie molte perfetto, adesso mettiamo questi calzini sporchi dentro la lavatrice come faccio ad accenderla ora? questa è una lavatrice magica, devi soltanto parlarle ok, ascolta lavatrice magica, lava i calzini subito pronuncia la parola magica per favore no, abracadabra abracadabra caspiterina, è più complicato di quanto pensassi allora Ben, cosa farebbe il vecchio saggio adesso? il suo prossimo lavoro è alla scuola degli elfi buongiorno bambini ma dov'è il vecchio saggio? per quest'oggi sarò io il vecchio saggio elfo la magia crea sempre tanti problemi dunque, qual'è la lezione in programma? noi dovevamo costruire un robot puoi chiedergli tutto quello che vuoi ok, dove mi trovo ora? tu ti trovi sulla luna non è la risposta esatta prova ad alzare la voce ok dove mi trovo ora? tu ti trovi sul fondo del mare salve barbarossa ciao Ben, ciao Ollie e buongiorno mio bucciolo di rosa lui è un mio vecchio compagno di bordo il capitano Spigola al vostro servizio stavamo discutendo su chi di noi fosse il miglior pirata cos'è che rende un pirata il migliore? il migliore è quello che si dimostra più abile a nascondere il proprio tesoro il mio tesoro è nascosto perfettamente ecco, questa è la mappa ma solo io sono in grado di leggerla e comprenderla anche un bambino ci riuscirebbe è sepolto sotto il grande albero degli elfi? ehm, sì la mia mappa è molto più complessa oh, questa sì che sembra difficile il tesoro è sepolto sott'acqua lì sotto gli occhi di tanti sorvegliato da una sirena e da un dorato mostro marino con scaglie che risplendono brillanti oh beh, io vado ho delle faccende da pirata da sbrigare è stato un piacere, Capitano Spigola per me lo stesso, Capitano Barbarossa guardate, Capitano Spigola ha scordato la mappa su, correte a restituirgliela no, è troppo tardi, se n'è andato forse possiamo raggiungerlo Capitano Spigola, aspetti! date a me la mappa, andrò da lui in volo! non sia precipitosa, mia sirena sa una cosa? terrò io la mappa al sicuro finché lui non tornerà ma non vorrà mica andare a cercare il tesoro di Capitano Spigola? oh no, noi pirati abbiamo un codice d'onore cosa dice il codice d'onore? che il tesoro di un altro pirata è sacro e che non bisogna mai andare a cercarlo comunque la mappa è troppo complicata per Barbarossa cosa? posso seguire questa mappa anche ad occhi chiusi e io ve lo proverò ma come la mette col codice d'onore? sai, il fatto è che i pirati non hanno poi tutto questo onore siamo pirati, dopo tutto in ogni caso voglio soltanto controllare che il tesoro di Capitano Spigola sia davvero ben nascosto tutto qui riesco a sentire da qui l'odore della colazione pronto? presto maestà dite al vostro gnomo che c'è un albero della colazione sulla grande collina oh ho sempre sentito dire che la colazione non cresce sugli alberi invece ci cresce e come? un albero stracolmo di uova pancetta salsicce e pane tostato è davvero la cosa più bella che abbia mai visto in tutta la mia vita guardate, stanno per incontrarsi e per fuggire a cento chilometri l'uno dall'altro oh, un gnomo e tu cosa ci fai qui? potrei farti la stessa identica domanda e allora fallo e tu che cosa ci fai qui? mi piace fare colazione vuoi sapere per quale motivo? no bene, lo prenderò come un sì è perché mi piacciono le uova fritte la salsiccia la pancetta le frittelle e anche ti sei mangiato tutto se non avessi parlato così tanto anche tu avresti potuto mangiare bene ora me ne andrò cento chilometri lontano da te almeno e io me ne andrò mille chilometri lontano da te almeno ha funzionato entrambi stanno lasciando il piccolo regno davvero un piano brillante ben fatto tata Susina vi ringrazio Riccardo in realtà è stata una mia idea vostra maestà no, non è vero io ho pensato di farli incontrare e io ho creato l'albero della colazione diciamo allora che l'ingegno degli elfi e la magia delle fate oggi ci hanno salvati urrà! lei mi ama oppure forse no lei mi ama oppure forse no lei mi ama guardate, l'ognome è ancora qui credevamo che fosse andato via chi vorrebbe cavalcare un lumacone? ascoltatemi bene non dovete mal camminare dietro alle lumache perché no? perché potrebbero darvi un bel calcio ecco perché oh 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 Speedy ha un bel caratterino, vero? dovete imparare a conoscere le vostre lumache allungate la mano in modo che possano annusarvi ciao Bobby sono piuttosto diffidenti hanno bisogno di tempo dagli una piccola pacca sul gusso coraggio Bobby non avere paura di me ben fatto è diventato tuo amico possiamo cavalcarle adesso? non ancora prima ci aspetta del lavoro innanzitutto rassettiamo le scuderie che cosa vuol dire? pulirle dalla popò di lumaca popò di lumaca prendete tutti un secchio e una vanga e pulite la popò la popò di lumaca puzza ed è anche molliccia è questo lo spirito giusto bravissimi mi raccomando dovete lavarvi bene le mani passiamo alla strigliatura adesso cos'è la strigliatura? pulire e lucidare prendete tutti una spazzola e poi date una bolla sgrassata ai gusci noi tre striglieremo speedy sta calmo piccolo sta calmo vogliamo solamente lucidare il tuo guscio oh ferma piccolo è piuttosto irrequieto come vedete sta bravo il guscio di Bobby adesso brilla anche quello di Dobbin guardate Muffin il suo guscio è luccicante ottimo lavoro bravissimi ben fatto ricevuto forza ragazzi si comincia diamoci da fare oh cielo che cos'è questo rumore? pronti a sollevare salve vostra maestà ah sì continuate abbiamo caricato tutto ragazzi potete andare papà hanno portato via tutto il nostro castello questo è un vero disastro eccomi oh no è la mamma posso guardare adesso? puoi farlo solo se chiudi gli occhi oh è divertente è come nei programmi che guardo in televisione posso aprire gli occhi adesso? non lo farei ditemi voi quando posso circa fra un mese oh oh dove è finito il castello? ecco cosa credi che diranno i calendula quando vedranno questo? rideranno, rideranno, rideranno oh no i calendula sono arrivati ciao caro sorella oh mamma mia oh mamma anche mia non è proprio come ce lo aspettavamo però non so davvero che cosa dire non è ancora finito è meraviglioso sì è incredibile volevamo soffitti alti voi li avete eliminati del tutto già e guarda qui l'angolo bagno sì essenziale è completamente aperto lo trovo così avventuroso beh devo ammettere che quella è stata una mia idea re cardo vecchio mio sei davvero un architetto nato è vero hai mai pensato di insegnare architettura? oh veramente no c'è nessuno? sono spariti tutti quanti hanno lasciato le bacchette oh è bello averti di nuovo con me ehi tata adesso che hai di nuovo la tua bacchetta magica ti dispiacerebbe? sarà un vero onore accontentarla grande mago ti do il permesso ritorna te stessa allora dove saranno finiti quei poveri bambini? temevo che sarebbe successo purtroppo Daisy e Poppy devono aver trovato il passaggio segreto scusate dove porta questo passaggio segreto? porta alla stanza segreta non avevo idea che noi ne avessimo una certo perché è un segreto questa stanza contiene una grande energia magica che non deve assolutamente essere liberata allora dei bambini non dovrebbero essere chiusi lì dentro riesco a sentire le loro voci stanno ridendo e sento anche qualcos'altro non dobbiamo assolutamente entrare ma insomma quanta esagerazione per questa energia magica dai poteri straordinari tranquilli ci penso io buona fortuna mia coraggiosa e dolce Susi che cosa riesci a vedere? delle cose spaventose arrivo Tata Barbarossa alla riscossa ecco i bambini Sagnessa aiuto resista Tata Susina ce l'abbiamo fatta ma è in salvo adesso mio dolcissimo pasticcino ho visto delle cose terribili in mare ma niente niente paragonabile a quello che ho appena visto in questo posto ed ecco perché cerchiamo di tenere la porta chiusa urrà! andiamo subito in cucina adesso dobbiamo mescolare tutti gli ingredienti una mora dello zucchero mezzo limone la rugiada bava di lumaca e l'ultimo ingrediente un rutto di rana e adesso la formula magica zucchero e limone mora fragrante rugiada, rutto e baba mescolatevi all'istante quell'intruglio avrà un gusto davvero spaventoso no Ben non ti ricordi? è una pozione che deve essere solo spalmata sui piedi e non bevuta nessuno berrebbe questa cosa oh perbacco ma è davvero terribile ha un gusto assolutamente disgustoso paparino ma tu non avresti dovuto berla eh? avrebbe dovuto spalmarla sui suoi piedi cosa? mi chiedo che succederà adesso vediamo un po' cosa dice il libro oh bla 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 oh perbacco che significa? mi sono sbagliata quello non era affatto un rimedio per il raffreddore comune era una cura per la calvizie però devo dire vostra maestà che i capelli lunghi vi donano moltissimo tata Susina credo che il raffreddore sia sparito urrà il re mi ha attaccato il raffreddore guardate un verme è scappato via non dobbiamo darci per vinti proviamo di nuovo eccone un altro io mi arrendo sono difficili da prendere ma questo piccolo uccellino è molto affamato dobbiamo assolutamente trovare la sua mamma di solito le mamme uccello arrivano quando i piccoli le chiamano ma non cinguetta abbastanza forte tata usa la magia fallo cinguettare più forte sì subito rendilo all'istante un uccellino gigante oh no hai usato la formula magica sbagliata l'uccellino sta diventando enorme non ho sbagliato affatto l'ho reso più grande così cinguetterà più forte non preoccupatevi l'incantesimo non durerà molto e quanto durerà tata Susina? potrebbe svanire tra un minuto o una settimana l'incantesimo ha svanito e la mamma uccello sta arrivando che cosa ha detto? ha detto grazie di tutto e ciao 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 Ollie questa era la nostra ultima consegna possiamo giocare tu avrai anche finito Ben ma io sto ancora lavorando qui Ollie è il momento del tuo discorso salve avete organizzato una splendida festa e spero che vi divertiate moltissimo a ballare ottimo lavoro ottimo lavoro che succede adesso? c'è la parte più difficile dobbiamo starcene seduti senza addormentarci in onore di sua maestà Riccardo ci esibiremo in una danza che orrore adesso è anche peggio eccezionale davvero bravi avanti papà andiamo a ballare cosa? ma io... oh d'accordo potreste suonare qualcosa di più moderno? certo maestà sai papà il tuo lavoro mi piace è divertente oh oh hai ragione Ollie essere re è uno spazzo per me si sta mettendo male Ollie si è nascosta troppo bene credo che non ce la farò mai a trovarla ti ho trovata! oh ma come fai a vedermi? io sono invisibile oh non sono più invisibile l'incantesimo è svanito l'incantesimo? ecco io ho usato soltanto un pizzichino di magia lasciamo perdere perché non facciamo un altro gioco? ti prometto solennemente che non userò le mie ali e la mia magia va bene allora adesso giochiamo a... Ben! Ollie! bambini! le tortine sono pronte ma signora elfo dobbiamo per forza entrare in casa non possiamo giocare ancora un pochino? questa è proprio bella credevo che una certa principessa delle fate e un certo elfo trovassero noioso giocare ma mamma noi abbiamo appena cominciato a giocare insieme e tu hai detto che le tortine dovevano cuocere tanto infatti ci hanno messo tantissimo davvero? vi è sembrato che il tempo volasse perché vi stavate divertendo succede spesso oh! volete assaggiare una tortina? sì, grazie! è deliziosa è squisita queste tortine sono fantastiche e la signora elfo non ha nemmeno usato un po' di magia ti ringrazio Ollie ma credo che sia tutto merito di come hai mescolato l'impasto la vuoi vedere una magia? va bene io posso fare sparire questa tortina ma come? credevo che gli elfi non sapessero usare la magia osserva attentamente attentamente la gallina è fuori controllo si salvi che tu prendete quella gallina svelti salite sul camion seguiamo quella gallina salite sul camion salite sul camion Ti do una mano io! Oh, buongiorno! Qualcuno mi può portare un uovo? Adesso! Oh, mamma mia! Tata Susida, ti avevo detto di non fare apparire una gallina! Ma non l'ho fatta apparire io! Tata, tu sai parlare la sua lingua? Certo, vostra maestà! Allora, che cosa ha detto? La signora gallina dice... Oh! Guardate! Laggiù c'è la nostra gallina! Fa' attenzione, tata Susina! Quello è un animale estremamente pericoloso! Ma non dire sciocchezze! È soltanto una gallina! La gallina ha di posto un uovo! Urra! Daisy, Poppy, sono certa che non l'avete fatto a... Miau! Uccellino che vola! Uccellino che vola! Credi che sia finita? Sì, per fortuna gli uccellini non sanno usare le bacchette magiche Oh, Barnaby, Ben! Avete visto le ragazze? I gattini sono Olly e Fiore E gli uccellini sono le gemelle Cosa? Eh... Daisy e Poppy hanno voluto fare un po' di pratica con la magia Oh, capisco E chi sono tutti quei conigli? Quelli sono gli elfi! Perfetto! Devo sistemare un po' di cose Correte via, gattini Tornate qui, Fatine Saltellate via, coniglietti Tornate qui, elfi Volate via, uccellini Tornate qui, gemelli Olly, sbaglio avresti dovuto badare alle tue sorelline Ma, Tata! Le gemelle sono davvero impossibili! Sono proprio delle piccole pesti Beh, non è successo niente di grave Niente di grave? Ci hanno trasformato in conigli! Lo so, sono molto colpita Ma... ma... Le piccole stanno diventando brave con la magia Rana Ranocchia! Date subito a me queste bacchette Per oggi ne abbiamo avuto abbastanza di magia Ma, Tata Susina Non possiamo lasciare che rimanga una rana? Non possiamo? No, immagino di no E va bene, Olly Falla tornare come prima Salta via rana Riappari, Tata Oh, Tata Susina è in un nido di uccellini Non c'è alcun pericolo Finché le uova non si schiuderanno Ecco appunto Oh no, gli uccellini sembrano affamati Oh, accipicchia! Le ali sono ancora bagnate! Oh! Tata Susina! È un po' spiacevole Ma in fondo è solo fango Veramente credo che siano sabbie mobili Tata Susina Sta sprofondando sottoterra Ben Sono pronta per il salvataggio adesso Fantastico! Decolla, Gastone! Presto sbrigati! Tata, cerca di resistere Adesso proverò a prenderti all'asso Per tirarti fuori di lì È troppo pesante Gastone, tira! Non mollare! Uuuh! Uuuh! Tata Susina! Hai un odore disgustoso Beh, almeno non c'è nessun altro che mi sta vedendo Santo cielo! Sei proprio tu, Tata Susina? Eh, sì, Regina Cardo Sto insegnando alle fatine delle importanti regole Eccellente! E quali regole delle fate hanno imparato? Prima regola Le fate devono sempre apparire carine Capelli in ordine Vestito elegante Pelle luminosa e ben pulita Eh, certo! Ora stavo mostrando alle bambine Che cosa non devono fare Regola due Le fate non devono mai separarci Dalle loro bacchette Eh, sì, sì, fragolina Riccardo non ci ha chiesto Ogni minimo dettaglio Sì, è vero Sembri avere tutto sotto controllo, Tata Prego, continua! Vi ringrazio, vostre maestà Per favore, non toccatele! Sono state create con la magia? Oh no, sarebbe stato troppo facile Il ghiaccio di cui sono fatte Si è formato migliaia e migliaia di anni fa A secoli Ed è stato intagliato Da alcuni polletti minatori norvegesi Queste sculture Sono uniche a un mondo E semplicemente insostituibili Oh, questo cigno è bellissimo Adoro i cigni Oh, accipicchia Tata Susina, ma che cosa hai fatto? Hai appena rotto la testa del cigno Non importa, ne faccio apparire un altro Abracadabra, apparire faccio un uccello tutto di ghiaccio Tata Susina, quello non è affatto un cigno A me sembra una gallina Assomiglia di più a un'anatra Però è adorabile A me piacciono le anatre Da questa parte, forza, sbrighiamoci Questa è la collezione a cui teniamo di più in assoluto È molto preziosa la collezione di giocattoli antichi È meravigliosa Passerete un sacco di tempo qui a giocare Io potrei rimanere qui dentro per sempre Questa bella scimmia Ha fin di un centinaio di anni, ve l'assicuro E questo pagliaccio di anni ha almeno più di duecento A quanto pare sono stati costruiti alla fabbrica degli elfi Da qualcuno chiamato il vecchio saggio elfo Noi conosciamo il vecchio saggio elfo Voi conoscete il vecchio saggio elfo? E com'è? Raccontatemi È molto saggio È vecchio Ed è un vecchio molto brontolone e molto poco saggio Ogni elfo ha un compito preciso Vedete? Uno dipinge gli occhi Un altro la bocca E un altro ancora i capelli Incredibile Credevo facessero tutte le macchine No I nostri giocattoli sono tutti fatti a mano Ci vuole un sacco di lavoro Gli elfi amano il lavoro E noi siamo elfi Invece io sono una fata grazie al cielo Stata Una volta che il vestito è stato dipinto Le bambole passano nell'asciugatore Poi vengono impacchettate e pronte per la consegna Ed ecco che qui abbiamo il prodotto finito Un perfetto esempio di abilità professionale elfica Il vestito delle bambole non doveva essere rosso Come? Hai ragione principessa Olly Oh non importa Un errore accettabile su un numero così alto di bambole Ma tutte quante hanno dei vestiti blu Ha ragione Ora siamo costretti a dipingerle tutte di nuovo Ma non c'è abbastanza tempo Posso mettere tutto a posto in un attimo con un po' di magia La magia non è permessa qui nella fabbrica degli elfi Ok Allora chiamerò Babbo Natale e gli dirò che cos'è capitato No Sono sicura che capirà No, no, non chiamare Babbo Natale E va bene Tata Susina Forse puoi fare una piccola magia Solo per questa volta Ottimo Per questo mi serve la mia bacchetta Bentornata Da blu a rosso Secondo me vogliono provare a volare Ma non possono riuscirci Insegnerò loro come si fa Le fatti sono molto bravi a volare E come sai Io sono una fata Ascoltate piccolini Ora provate a imitare me Volare è una cosa facilissima Non mi stanno imitando affatto Forse è meglio cominciare con qualcosa di più semplice Tu come hai imparato a volare? In realtà io volo fin da quando ero molto piccola Non me la ricordo proprio la mia prima lezione di volo Cominciate solo a sbattere le ali Fate così Ti stanno imitando tutti, Ben Adesso sbattetele più in fretta E ora saltate Stanno volando Bravissimo, Ben Guarda, sei riuscito a insegnare loro a volare Anche se tu non ne sei capace Ciao, ciao, Picky Stanno andando via Addio, piccolini Non mi dirai che ti mancano adesso No, mi è entrato qualcosa nell'occhio Le uova si sono già schiuse Voglio segnare i piccoli nel mio libro Sono volati via, paparino E io ho insegnato loro a volare Oh È già tanto se un ornitologo riesce ad avvistare i piccoli del picchio una sola volta nella vita E voi l'avete sprecata Questa non ci voleva Non riuscirò mai più ad avvistare un uccello raro Pronto? Scusi, Riccardo C'è un nido piuttosto strano al piccolo castello Un nido? Non riuscirò mai più ad avvistare i piccoli del piccoli del piccoli del piccoli del piccoli del piccolo Non riuscirò mai più ad avvistare i piccoli del piccoli del piccoli del piccoli del piccolo